In questo video andremo a vedere come si abbina EasyCon for Connex a Google. Per utilizzare il nostro impianto Connex con l'applicazione Google Home oppure parlando con Google Assistant dobbiamo abbinare EasyCon a Google. Prima di cominciare assicuriamoci di aver già abbinato EasyCon for Connex al Freedom Pro Cloud. Per abbinare EasyCon a Google ci bastano un dispositivo con l'applicazione Google Home installata. Apriamo l'app di Google Home disponibile per Android e iOS. Selezioniamo Inizia. Inseriamo il nostro account. Finita la procedura di login selezioniamo Inizia. Compatibile con Google e cerchiamo Freedom Pro tra i servizi elencati. Accediamo al profilo del Freedom Pro Cloud con il nostro account di Google o Facebook per completare l'abbinamento. Ci saranno mostrati tutti i dispositivi all'interno di EasyCon. selezioniamone uno alla volta e inseriamo in che casa e in che stanza si trova per sfruttare tutte le potenzialità di Google Home. Ad esempio personalizziamo Luce Cucina. Selezioniamo la casa e la stanza in cui vogliamo inserirli. Procederemo così per tutti i dispositivi del nostro impianto Connex. L'abbinamento con il mondo Google è completato. Tornando alla pagina iniziale dell'applicazione troveremo tutti i nostri accessori Connex e potremo gestirli comodamente dallo smartphone. Sfruttando il nostro pannello demo possiamo vedere che se clicchiamo sull'accessorio Luce Cucina si accendono le luci della cucina. Possiamo inoltre gestire gli accessori sia da locale che da remoto grazie al collegamento con il Freedom Pro Cloud. La procedura di abbilamento con Google è completata. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!